Mi trovo nel lago Laverno queste signore hanno pescato una tartaruga che l'ho invitati a buttarla di nuovo nel lago e sto assistendo alla scena che lo facciano altrimenti esco fuori e denuncio tutto alle pubbliche sicurezza non mi muoverò di qua fino a quando non succederà questo C'è una che stai domandando a capire che è pericolosa guardate un po' fa ci agitiamo nel ghiare mantieni la testa bravo niente la testa come questo se ci taglio i giulaggi che fa? ci taglio i giulaggi per questo cosa e poi ci taglio i giulaggi vai poco io la puc la ucca stai inocciando i miei stai inocciando i miei stai inocciando i miei stai inocciando non si stai inocciando i giulaggi stai inocciando il ci regionale stai inocciando è inocciando dappi stai inocciando ma tornare la stai inocciando a me no